bene ragazzi eccoci tornati a un nuovo episodio di Toilets of Arise ci eravamo lasciati con una tizia straniera che abbiamo trovato da un'azzo dove quindi vediamo come prosegue la storia e vediamo una scenetta quindi capiamo che sono divise in delle mura tipo Attack on Titan quindi ogni lord si è divisa la terra e se l'è murata lo scopriremo grazie it's so quiet ok torno dal medico direi che ci stava importante solo una ricetta una pietanza da poter fare più avanti come che si? ma non lo riconosci giustamente? non si fida quant'entusiasmo questo doppiatore guarda fa proprio pietà ma non ho ho detto che sono Alfa ora e non ho avanti a Balseth solo anche così non è un piccolo attenzione che hai avuto e hai metto quella moglie con te, la Renan? lo sai di quella solo quello che ho ho sento da dei rumori non ho capito doc lei ti è sicuro che dovrebbe dire questo a una Renan? non ho dire questo a una vecchia Renan ho dire questo a te, young io ho solo aiutato perché era anche in mio interesse nel suo interesse ovviamente ovviamente io immagino di questo ma i due di voi ha vincitato Balseth e ora tutti noi siamo liberi grazie doc io dovrei essere la persona che ti ringraziare io non potrei mai ripetare comunque credo che non ti... ah certo abbiamo bisogno di vostri consigli abbiamo trovato una ragione che ha colapsato dall'accia e lei ha bisogno di medicina sai cosa? mmm se fosse così fuori potrebbe necessario nutrizionale le herbe che ho ho... oh hai provato a cercare la città garrison? no abbiamo passato qui ma... con tutti i Renan soldati che dovrebbe essere semplice ora se siamo fortunati magari hanno lasciato qualcosa che... buona idea vediamo città garrison se non mi ricorda questa è la... cos'è da dove si trova? cos'è da dove si trova? si io dove? ah forse all'interno arrivo le strutture là ti aspettavi che ti mettesse il bobolino giallo che ho andato a riconosciuto? che ho andato a riconosciuto? lo vuol dire e come ho detto prima ti ha piaciuto come un... questo è quello che rende così stretto avrei preferito aver chiamato e tirato le rocche a te? non sto dicendo così è solo... difficile questi che si lamentano sempre abbiamo raggiunto il nostro destino per riconosciuto per cambiare secondo me dovremo arrivare a te i componenti per cambiare per cambiare il leader ah 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 vedi adesso ma lo fa dov'è dov'è dov'è? eccolo come risponde garbata di dice che ci sarà qualche altra cosa quindi ma dovevo ritornare al doc vediamo se va bene no 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 Beh, ci ha dato la sua benedizione. La sua benedizione è la sua benedizione. La sua benedizione è la sua benedizione. La sua benedizione è la sua benedizione. Oh ecco, adesso ci spedano un po' più di questi muri. Come fa a sapere le resistenze dalle altre parti se ha detto che passavano solo i nemici? Oh ecco. E questi non ci vengono, figurati. Vabbè, lì deve ammazzare gli altri lord quindi. Ma ragione, se no che stanno a fare? E' un nemico. Eh, il problema è che ce l'ha lì. Fatti. Priggilo. Cosa? 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 Cosa vuoi fare? Cosa vuoi? 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 Ci sono dei due. Cosa vuoi, non possiamo scoprire la possibilità di più attacchi. Ma ora, il nostro lavoro è diventato. È diventato più grande di liberare i loro in Calaglia. Non possiamo essere in due paesi a una, Zephyr! Cosa vuoi, quindi ci sono limitati in nostri opzioni. ciò c'è mandato a vande a noi Sì, è vero? Non lo dico. Vedo bene le sue mani proprio. Sì, è vero. Let's move, people. Sì, è vero. 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 Non sembrava così grande il gufo. Sì, è vero. 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 Allora... E qua di Letta non ci sono ancora andata. Dove stava il gufetto? Sì, è vero. Sì, è vero. È vero. Sì, 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 anche se i tuoi scopi hanno il beneficio di i tuoi inimici. Quindi è facile di swipare i materiali da te. Sì, è vero. E contro i nemici che volano dovete usare lì. E io mi ammazzo quelli che stanno per terra. Vediamo che c'ho. Ah, io questo ce l'ho pieno. Sottile della vita. Ah, basta, solo questi. Ah, forciarmi. Mi conviene. Perfetto. Niente, arrivederci. Mangiamo. La nuova del pesce. Eccolo. Posso farlo? Sì. Chi la cucino? Non si sa. Eh, questo è nuovo. Non l'avevo visto. La missione secondaria, me la stavo lasciando indietro. Non va bene. Non si sa più. Non è piaciuto. Non ci sono alcune delle volte. Ok, Pippi ce ne ho alcune delle volte. Oh! Perfetto. Ok, lo seguiamo. Oh, mamma mia. Non c'è niente. Non c'è niente. Qual è Chanel? Ah, ce l'ha attaccato. Non c'è niente. 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 Non è forte. Non c'è niente. 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 Allora, questi sono a livello 14 e sono deboli a terra. Sotto di terra, sotto deboli a cosa. E' un attaccato che fanno questo. Sono riuscito a fare il bust Ah, ma non ho stato il... no! Qui di terra tutti quanti questi Che cavolo ho fatto? Sto stronzo Ma che ho visto l'attacco? Ah, non ho trovato Ok, di là non possiamo passare Ok, quindi da lì si congela Questa è un po' Questa è un po' Questa è un po' Questa è un po' Quindi quel paio Se non si può parlare male Perché chi parla male In questo caso Finisce nei campi di lavoro Sarà detto mo' Ci sono le spie Non c'è Non c'è nessuno 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 Se devono andare a cambiare gli attacchi Sono più efficaci Non c'è nessuno 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 Proviamo qualcosa di nuovo Ma vedi? Questa è di terra Ma c'è Non c'è Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Proviamo a fare questo Ma questo è un altro Ma questo è un altro Dima Non c'è nessuno E nessuno Senti, devo provarlo. Senti, va più down. Questa è tutto un complesso. Quindici, quattordici, ok. Io direi... Ah. Far fuori prima questi? Oh. E dai. Allora, vediamo un po', questo è terra. Quindi dovrei usare vento, che è vento, vento, che c'è il secondo. Infatti, vedi? Esce vulnerabilità. Quindi, se faccio quello marrone... Quindi bisogna trovare quello che è terra, quindi noi dobbiamo attaccarlo con vento. Oh, che carina, la finicia. Mamma mia. Che cos'è quella cosa? Oh, cavolo. Che è un attimo buono. Ah. Ce l'abbiamo fatta? Sì. Bene, ho fatto bene a cambiare... Ah, vediamo che dà. 10 pc. Punti cura massimi. Massimi. Allora, no. Ehm... Appeggiamento. Che è l'arma nuova. Torbono le regge astrale. Lei non c'è niente? No. Ma lei non riesce mai niente. Ma quella ragazzina non combatte mica. È una palla a piede bassa. No, io devo salire sopra. Vedere se ha rilasciato qualcosa. Fa salire. Allora, vediamo. Questi sono... Quindi dovresti fare sempre col verde. Vediamo la cambio. Allora, mi serve qualcosa con verde. Allora, ho avvento tagliante. Oh, posso. Ah, bella. Una bella accoppiata. Vedi? Adesso li ammazzo in due secondi. Quindi, mi raccomando, controllate a cosa sono vulnerabili. Oh, è quello. Come ci arrivo là? Ah, da là. Ok. Non so se devo fare qualche mossa pure a lì. Sbloccare qualche abilità. Allora, vediamo se a lui lo posso aumentare. Sì. Ok. Ma preferisco spostare questo, così faccio la sclippata. È lì. Vediamo. Un altro attacco, assolutamente. Un altro attacco, assolutamente. Allora, cambiamo. Siamo lui. Lui sente freddo. Allora, quindi niente, dobbiamo andare per forza di qua. Un altro attacco, assolutamente. Ok, se vi servono funghi, venite qua. Trova sospetto questo posto. Ma niente. L'abbiamo fatta ad uscire. Viacciamo. Ma quante pippe mentali che si fa a questo. Deve dire ancora se si viva. Ne? Assolutamente. Mi può essere affrontare. noi facciamo preparazioni per parlare pragmaticamente il fatto che i Renans non exterminano noi tutti in spite della loro avvantazione tecnica è per noi mettere una denta in loro prima che si incontrano il nostro plan in questo modo vuoi negociare con i... è gallo, lo so ma è l'unica modo per survivare mentre attraverso la nostra libertà ma... è... ma anche... ma anche se voi stessi parlando c'è un lord che siamo arrivati a perdere che c'è lì che se ne importa? infatti ma se domani piove cosa faccio? vediamo prima se piove e con i costumi che c'hanno c'hanno già freddo? non è fatto incazzare non è fatto incazzare se io sono la persona che chiedevi sì, ma se ti perdiamo non sappiamo dove andare inoltre ci sono ragazzi come me ma... ma... ci sono necessità per arrivare in contatto con la resistenza ok ok ora mi hai chiesto come hai chiesto di Calaglia nel primo momento ho trovato... forse perché sta a combattere? ehm... sì è tutto ma tutti bugiardi in sto gruppo sono stato molto buono sono stato buono sono buono 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 è vero che senti come... è veramente è vero che è vero che è vero che ho solo potrezzare quindi... ah... 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 tu non puoi senti ma sembra che sembra che... sembra che... quindi... dicono che che spettacare è la prima cosa che stai con il caldo ah... è stato anche spettacare? ho solo ho solo ho solo no... è stato molto diverso da me ma io potrei dire che sia ancora... non è stato spettacare ok? ah... è vero che abbiamo bisogno di stare in caldo è vero che non... è vero che è vero che è vero che è stato arrivato dove tutti i raggiungi e i raggiungi e i raggiungi come con me come con me quello che hai fatto è un problema è vero che hai seguito e... è vero che ho solo perché ho avuto la con me non ci saremmo senza te e... eh... magari so ma sei ancora il che lo ha fatto sei un herò non ho mai chiesto di essere io... non ho mai chiesto di prendere il posto di un lord in le menti non voglio sei un herò che è un herò finalmente è qualcuno che glielo dice e... guarda ascoltate queste pensi quando ti senti e se puoi farlo non perdere la vista del giro il giro che è chiunque all'anno cucinare No? ok rende immuni al veleno sarebbe male rende immuni alla paralisi acqua e fuoco si queste ce l'abbiamo già misa direi antiveleno quanti ne abbiamo un po' 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 e direi di farne un altro di basto l'esistenza forse non ce l'ho vediamo si fa migliorare deve arrivare a 5 immagino l'esistenza forse non ci sono 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 ma io non ce l'ho la cosa fammi vedere l'esistenza forse non ci sono danni l'esistenza forse non ci sono danni luce ah quindi se lo porti a 5 ti sblocca la seconda abilità ci sono l'esistenza forse non ci sono un nuovo questo è saltato pure quando cucino ma finiamo sta mappa ok allora ci vogliamo attacchi di fuoco 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 non c'è niente di fuoco io ecco perché niente di fuoco c'era lì di fuoco mi schiacciava la bomba qualcosa non c'è niente di fuoco non c'è niente di fuoco non c'è niente di fuoco una cosa la ragione sono i i i i i i i i Sì, questo è un ricco che arriva dai nostri occhi che le persone sono la ragazza che siamo in questo messo nel primo momento. Ma lei ha iniziato! Tre centrii di risposta è troppo per legare a una sola persona. Lo stesso è per te, Shion. Non puoi ignorare il passato quando pari... Ora, cosa sta succedendo? Sì, se volete capire, qualcuno ha tappato il snake eyes e sono qui per l'arresto. Tu non potrei dire che ci sia iniziato. Io sono qui per il Lord's Head e non... That go for you too, Alphen? Why? To liberare questo realm? Are you still a slave? Me? Then tell me what it means to live on sha... I'll tell you what it means. It means living on your own terms. Thinking and making decisions for yourself. And being pro... Yeah. Good. Shion. Don't start with me. I'm not going and that's that. I understand. Just wait here with Rynwell till we get back, okay? You're going in without the sword? Looks to be that way. This is my choice. Your choice? Listen to yourself. Fatti, ti ho fatto il lavaggio del cervello. That sword is useless to me without someone to use it. You go dying on me, but I need us all to make it safely to Cyslo then. Too many sacrifices have already been made. You've... You've sacrificed... Hide somewhere until it's over. You hear me? Vinny, vana, vana. I hate seeing Danon suffering under them here, too. I'm surprised you're so angry about it. You're not even from here. It doesn't matter where I'm from. Enough... Silence embedded. Anyone who fails to cooperate will be arrested and tried as a traitor to the realm. Damn it. Some rat must have sold us out again. You there! You want me to haul you up on suspicion of civil disobedience? But I didn't. Leave him alone! An embedded dares to find the orders of his lordship? Know your place, slave! We can't use the blazing sword this close to the villagers. They could get hurt. But there are too many agents. Zephyr? Law? Is that you? What's going on? Aren't we supposed to be fighting them? They're alive. What are you doing here? The realm of Ciclodia doesn't tolerate civil dissidents like you. Law. I hereby detain you in the name of his lordship. Zephyr? Zephyr? What the hell? Zephyr! Zephyr? 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 Grazie a tutti Credo che sia suo figlio Grazie a tutti 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 Qualche Grazie a tutti 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 Grazie a tutti